Dimmi il nome di una streamer famosa e non così carina allora Ma allora anche... non lo so Che ti devo dire? Adesso non mi viene in mente nessuno streamer Vabbè, allora posso dire Favij, che non è uno streamer, vabbè, facciamo finta che sia uno streamer È seguito soltanto perché è bello Io posso dire... posso fare lo stesso identico discorso Ditemi che non è vero? Non è vero? Sì, è la stessa cosa, è la stessa cosa Io lo seguo soltanto perché è bello Io Favij da piccola lo seguivo più o meno perché era figo Non me ne frega un cazzo di quello che faceva No, ho detto Favij perché se dicevo uno di Twitch tutti a dire Adesso ci però vai con lui, oh mio Dio, che malata di hype e tutte ste robe Sì, raga, da piccola mi piaceva Favij, questa è la cosa abbastanza imbarazzante Perle in diretta, bellissimo sto profilo, piccolissimo Ciao! 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 Ciao!